Anita Olivieri e Beatrice Luzzi, una rivalità che persiste anche al di fuori della casa del grande fratello. Le tensioni tra le due concorrenti sembrano essere perdurate nonostante la fine del reality show. Durante una diretta su Instagram con Alessio Falsone, Anita ha lasciato trapelare alcune frecciate nei confronti di Beatrice Luzzi. Questo non è certo un nuovo capitolo nella loro sin dai giorni trascorsi nel rifugio di Cinecittà. Le divergenze tra le due hanno origine dai rapporti contrastanti che entrambe hanno avuto con Giuseppe Garibaldi, ma il loro confronto è proseguito anche al di fuori della sfera sentimentale. Nonostante abbiano condiviso lo stesso spazio abitativo, non hanno mai trovato terreno comune, continuando il loro percorso all'interno della casa in un clima di costante conflitto. Ora, con la fine del grande fratello, entrambe sono tornate alla loro vita quotidiana. Beatrice si dedica alla famiglia dopo mesi di lontananza, mentre Anita vive la sua storia con Alessio Falsone sotto gli occhi dei follower, condividendo momenti di intimità attraverso i social media. Durante una diretta su Instagram con Alessio, Anita ha ceduto alla tentazione di commentare su Beatrice. In risposta a un commento di un utente, ha fatto osservazioni sulle abitudini di Beatrice, suggerendo che si conceda delle coccole a letto con persone non fidanzate o comunque non legate sentimentalmente. Nonostante Alessio abbia cercato di placare la situazione, la tensione tra Anita e Beatrice è rimasta palpabile. La rivalità tra le due sembra essere ben radicata e difficile da sopprimere, anche al di fuori delle mura del grande fratello.